din dong hello amici di youtube benvenuti in questo nuovo appuntamento col processo di parrucco yeah nuovo appuntamento nuova settimana in casa wwe subito mi raccomando il pollicione in su per sostenere la serie e nei commenti come sempre ditemi se avete opinioni diverse dalla mia non perdiamoci in chiacchiere partiamo subito con queste con questa settimana wwe dai bocciati e devo bocciare il main event di smackdown dopo una puntata così incredibile come secondo me è stata la prima ora ora e mezzo ora e venti ecco chiudere con questo match qui e non è stato bruttissimissimo ecco che sia ben chiaro l'arche io che vedete anche qui nell'immagine eseguita da orton è stata come sempre perfetta però hai avuto una puntata da da dieci e chiudi con sei bo ripeto la puntata è stata talmente alta che non mi ha fatto percepire questo match come un main event oppure è stato veramente scadente per me è stato veramente scadente non degno di di quello che avevamo visto che abbiamo visto prima quindi orton e teori vanno a finire nei bocciati come va a finire nei bocciati se trolling non il promo non il promo di lunedì attenzione ma il il suo modo di vedere questa vrestle mania mettiamola così dare priorità più alla storia della bloodline che al suo difendere il titolo massimo con 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 drew makinder c'è più importante abbattere la bloodline che il tuo titolo ci stai dicendo questo set per quanto possa essere bello sognare un dream team con te codi insomma tutto quello che vuoi però ci stai palesemente dicendo che il tuo titolo vale meno della storia di blog della bloodline e secondo me non fa una buona pubblicità al tuo titolo c'è quasi un titolo di cartone quello che hai a questo punto qui mi viene da dire e continuo a bocciare questa road to wrestlemania di set rollins perché appunto non la mia priorità è anche distruggere la blog ma è un match titolato tra un mese il tuo titolo che detieni da quasi 300 giorni 300 giorni se non ricordo male comunque più di 200 e ti importa di più della blog line che non ti viene in tasca nulla boh non 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 mi sta piacendo una road to wrestlemania di set rollins passando tra i promossi ci sono un paio di asterischi nei promossi che però vi vi dirò promosso stra promosso iper promosso la la fare la fare blog la mettiamola così quel momento dove roma rens chiede di essere riconosciuto come come numero uno da da the rock e magia per me lì è veramente magia e chi se lo aspettava chi se lo aspettava probabilmente nessuno e veramente in live reaction eravamo tutti cioè l'aveva l'aveva detto il find così per ridere per fare uno scherzo sta a vedere che adesso gli chiede di riconoscerlo invece che l'ha chiesto veramente ed eravamo l'ha fatto c'è questo entra di diritto secondo me in uno dei momenti migliori di smackdown negli ultimi anni la faccia di poleman qua si intravede il sospiro di sollievo ecco però la faccia di poleman quando roman interrompe the rock e poi gli chiede questo c'è la faccia di eman è tipo sembra che abbia visto un fantasma è bello anche il fatto che rock continua ad alzare le due dita diciamo a forma di l e non se ne accorge roma rens non se ne accorge nessun altro membro se ne accorge solo poleman bella anche questa questa cosa qui promosso anche dal segmento diciamo perché alla fine è stato un angolo ecco delle delle kabuki warriors chissà che andrà ad affiancare a questo punto qui belli la mia idea pazza che mi sono fatto è una bianca belere jake cargill che vanno ad aiutare belli un immagino una scena backstage con belli che non sa come difendersi arrivano arrivano bianca ma arriva bianca magari gli dice hai visto che hai fatto così con con noi con me tutte le settimane attacchi su attacchi e ora tocca a te e magari le due si mettono d'accordo per collaborare con magari bianca belere che dice guarda ho io una che può può darci una mano e ritorna gil cargill piccolo pronostico per questo smack down di venerdì vediamo se ci avrà preso però ne ho promosso segmento segmento damage control diciamo il match delle damage control ecco passando a ro promuovo questo promo qui se ignoro come ho detto prima ecco qui il primo asterisco se ignoro come detto prima il fatto che rollins è campione massimo cioè non mi dilungo oltre perché l'ho già parzialmente spiegato prima mi sta piacendo questa rotto presto il media di codi roads mi sta piacendo questa cosa di che serve un dream team come se trollis e codi roads per abbattere la bloodline però se faccio finta che lui non abbia il titolo dei pesi massimi se invece vedo cioè non ne faccio finta se trollis come ho detto prima vanno imbocciati però il segmento molto buono e non vedo l'ora di vedere questo smack down venerdì che saremo in live reaction sia qui su questo canale che sul viola a partire dal lune tre quarti quindi vi vi aspettiamo come promuovo anche il match di gunter che ha dimostrato ancora una volta il suo stradominio secondo me il suo la sua forza hanno indetto un gauntlet match per decretare il suo primo sfidante non è la stipulazione che mi fa impazzire spero che si vada con chat gable o con semi day in magari un doppio schienamento di entrambi che ne so rimangono chat gable e semi e doppia culla tutte e due giù a terra e alla fine si fa un incontro trever e stalmania ecco perché perché no però non ho promosso tutto quello che riguarda diciamo il titolo intercontinentale con gunter che si conferma distruttore ottimo anche questo come voglio anche promuovere la divisione femminile da quando sono arrivate chiedere katana che sono diciamo il primo secondo me tag team vero se vogliamo un po escludere sasha banks e bayley perché di fatto anche se erano molto amiche erano due due singole ecco però da quando ci sono chiedere katana che sono due coppie una coppia rodata c'è un vero tag team mi viene da dire i match che fanno riguardo sempre con piacere sono molto brave e mi piace questo mi piace i match che fanno non hanno vinto prevedibile però promuovo la il match di coppia femminile da quando ci sono loro nei loro match mi stanno piacendo promuovo anche tutto quello che riguarda anche la la divisione femminile per quanto riguarda la cintura di di ariple diciamo tutto quello che gli orbita attorno becky lynch c'è due balle becky detto con tutto l'amore del mondo questo è il secondo asterisco c'è becky sembra che non abbia la voglia la grinta di andare su per per andare contro gli ariple mentre neia jack se leave sì che ne hanno hanno motivazioni hanno voglia hanno molto più spinta becky sembra lì per sì sono becky ho l'opportunità titolata boh non non mi sta piacendo becky ecco qui il secondo asterisco però loro due neia jack se leave morgan hanno cioè si vede che hanno questa voglia di dire noi vogliamo il titolo noi vogliamo andar su chissà che non si che non finisca in un fatal four way magari per per resta il mania eliminazione o un un ladder match magari io se io sogno un ladder match come in resta il mania 31 per dire quel bel ladder match che ci fu e magari lo tireranno fuori qui ecco non lo so però bello anche questo segmento non becky comunque ripeto asterisco no promuovo anche il match tanti promossi però è per me la puntata non è stata male anzi tutt'altro lo scontro tra l'imperium e il judgment day un'ottima prestazione purtroppo deve sempre cadere giù il nostro giovanni piacerebbe anche un po' oltre che chiedesse anche il kaiser però non nulla da dire promossi un bel match di coppia chiudo anche quello che riguarda la puntata di ro con il main event finalmente stanno iniziando a costruire jake contro jimmy secondo me eravamo un po al limite con la costruzione con le costruzioni però almeno quella costruzione del match tra loro due cioè praticamente per quattro mesi non si sono non si sono visti né batti beccati sì c'è stata una mezza interferenza di jimmy che è costato i titoli di coppia j ma lì per lì non ha contato niente quindi sembrava messo tutto in ghiacciaia poi adesso la stanno piano piano ritirando fuori vince ancora mckintar con l'aiuto della bloodline chissà che anche lui non chissà che lui non costi il match se faranno questo match di coppia avresta il mania tra roman e the rock contro sette codi chissà che non sia proprio lui drew a costare il match asset bo però ne ho promosso anche questo mini va soprattutto il lato jimmy ecco quindi contento che la stanno riprendendo questa rivalità e con questo terminato vi ricordo per ultima volta il like nei commenti di dirmi se siete d'accordo con me oppure no noi ci vediamo alla prossima qui su youtube e così ho deciso l'udienza è tolta